Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico che scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla A1 in direzione Bologna ha chiuso il tratto tra Aglio e Pian del Voglio per lavori fino al 22 ottobre. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla statale 1 Aurelia per lavori è chiuso in direzione Livorno lo svincolo di Giuncarico in entrata e uscita. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato tra Bagni di Lucca e Casoli per una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!